Le videoguide di Intesa San Paolo Con questa videoguida scopriamo Sibill, il servizio evoluto d'incasso e pagamento reso disponibile dalle banche aderenti al consorzio CBI che ti permette di gestire online il pagamento delle tue bollette e fatture, pianificare al meglio le spese, eliminare il cartaceo e rendere più semplice la gestione dei promemoria dei pagamenti. Sibill può essere utilizzato in modo integrato sui seguenti canali. Tramite Internet previa attivazione di Internet Banking o il servizio InVise Tramite gli sportelli ATM E in filiale Con Sibill puoi tenere sotto controllo le tue spese online. Inoltre, con gli aggiornamenti in tempo reale puoi pagare o prenotare il pagamento delle tue bollette e fatture, verificarne la scadenza, disporre di un archivio telematico dei pagamenti eseguiti, ricevere gli avvisi elettronici relativi all'aggiornamento dello stato delle bollette e fatture. Sibill è veloce e consente l'immediato pagamento delle bollette. Inoltre, è ecocompatibile. Infatti, consente di limitare la produzione e la spedizione dei documenti cartacei. Guarda anche gli altri video. Che ti permette di gestire online il pagamento delle tue bollette e fatture, pianificare al meglio le spese, eliminare il cartaceo e rendere più semplice la gestione dei promemoria dei pagamenti. Sibill può essere utile di un archivio telematico dei pagamenti eseguiti, ricevere gli avvisi elettronici relativi all'aggiornamento dello stato delle bollette e fatture. Sibill è veloce e consente l'immediato pagamento delle bollette. Inoltre, le videoguide di Intesa San Paolo. Con questa videoguida scopriamo Sibill, il servizio evoluto di incasso e pagamento reso disponibile dalle banche aderenti al consorzio CBI. Con Sibill puoi tenere sotto controllo le tue spese online. Inoltre, con gli aggiornamenti in tempo reale puoi pagare o prenotare il pagamento delle tue bollette e fatture, verificarne la scadenza, disporre il dato in modo integrato sui seguenti canali. Tramite Internet previa attivazione di Internet Banking o il servizio Inbese. Tramite gli sportelli ATM e in filiale.